Primo tentativo ragazzi, 3V, ma non basta, non dobbiamo... E' rimasto il panone con l'albero? Bella a tutti ragazzi e bentornati su Footwork Italia Come ogni venerdì siamo tornati per sperimentare quanto sia difficile l'utilizzo di un panone a calcio senza la vista Abbiamo scelto 4 challenge per mettere appunto alla prova i vari sensi In realtà il gusto non è proprio un senso in questo caso ma è il nostro gusto Ovvero proveremo a fare una skill difficilissima di freestyle senza vedere il pallone Ma per scoprirlo dovete seguirci Commentate qua sotto secondo voi qual è la categoria più complicata? Io sono curioso di vederlo, ho già una mia idea però non lo so Mi raccomando arriviamo a 10.000 like se vi piacciono questi esperimenti con i vari sensi perché ne mancano ancora di sensi Iniziamo allora Siamo arrivati nella stazione della memoria ragazzi Potremo guardare la posizione della porta una sola volta prima di iniziare Se riusciremo a fare almeno la metà dei tentativi sarà la prova superata Sufficienza sportiva La porta verrà ogni tiro spostata in modo che dovremo memorizzare dov'è Ok Palo Dritta davanti a me E' torto Com'è andata? Male Una palla è qua Ok io direi che ci sono Pala Palo Ragazzi la prima stazione purtroppo ha avuto almeno su di noi due punti e mezzo su sei Siamo arrivati nella seconda stazione che è quella del tocco Lo scopo è quello di riuscire a fare per 5 volte consecutive la V in ground move Ce ne fai vedere una Gunna? Una? Eccola Partiamo col destro, dietro incrocia, sinistro e ancora destro Abbiamo sempre i nostri classici sei tentativi Vediamo come va Iniziamo Tutto sommato a sé piacerebbe essere bendati con questo sole così forte Sì Ficcio cieca Infatti abbiamo veramente gli occhiali Primo tentativo ragazzi 3 V ma non basta Non dobbiamo E' rimasta e panano con l'albero Ok Inizio già a cadere così Non dobbiamo Allora Hai preso il ritmo Bene Siamo arrivati ragazzi nella terza stazione ovvero quella del gusto Per provare a riuscire a fare almeno 3 crossover su 6 all'interno del cerchio Sempre chiaramente bendati Secondo me la difficoltà sarà agganciarla dopo Non è che secondo me Primo tentativo Vediamo come va Tu ha C'è il tuo Vado col secondo raga Mi ha salutato e poi sono andata Terza e ultima Questo mi sa che era il più bello Questa è la presa scantina dei portieri Ho visto che mi sembra un po' giorgiù Siamo Agua Ma sai che hai un futuro da portiere cieco? Hai visto che presa Andiamo alla prossima postazione allora Andiamo alla prossima postazione Vedi sarà difficilissima Gunther bendato al centro Massimo silenzio Quando lo chiamo dovrà passarmi la palla nello spicchio giusto Vediamo com'è il suo udito Gli sta? Completamente dall'altro lato Ero a sud e Gunther l'ha tirato a nord Stai lì secondo tentativo Assurda questa zio Probabilmente perché mi immaginavo che lui fosse lì Secondo tentativo Giusta giusta Il secondo l'ha preso Vediamo se riusciamo a mettere in difficoltà Nel terzo tentativo È giusta? È giusta Ok Hai visto? Sì L'accetto di là Due su tre per il nostro Gunther Ottimo udito Tocca a me Ragazzi finalmente ho l'opportunità di vendicarmi Su tutti i tranelli di Harry e Nicolas Leoni Io però te Harry Peccato Secondo tentativo Il primo l'ho messo in difficoltà Ma è nella mia squadra Quindi devo cercare di aiutarlo Partiamo Harry Ha passato il test Harry Va bene Due su tre Harry La prima era molto difficile La seconda Difficilina La terza era un po' facile Perché proprio ti ho direzionato Così il suono Infatti ti ho sentito bene Ma ci siamo salvati Perché siamo riusciti ad avere almeno due sufficienze Su quattro prove Allora Quindi direi che Sono andati bene Fateci sapere ragazzi Secondo voi Quale tra le quattro sfide È stata la più complicata Secondo me È quella della memoria Quella della memoria Ti dico di sì Forse perché era la prima Non eravamo ancora abituati a non vedere Non dimenticatevi di lasciare un like Noi ci vediamo martedì per un prossimo video E poi venerdì E poi martedì E poi venerdì Attivate la campanella Così non sbagliate di sicuro 10 notifiche Gratis Ciao